Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo a parlare di zaini abbastanza grossi e parliamo del Gregory Focal 48 litri, uno zaino ultralight, neanche troppo costoso per essere ultralight, di cui adesso naturalmente vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Come al solito inizio a parlarvi di questo Gregory Focal da suo peso. Nella versione da 48 litri pesa 1,250 kg, poi vi farò vedere che possiamo anche andare a diminuire il peso togliendoci il cappuccio, arrivando a farlo pesare 980 grammi, quindi sotto il chilo. Allo stesso modo c'è la versione da 58 litri, che naturalmente peserà un centinaio di grammi in più, non essendo uno zaino regolabile, poi questo lo vediamo, e esistono anche diverse taglie, S, M e L, io ho preso la taglia M e per me che sono alto 1,90 m è andata più che bene. Quindi adesso, come al solito, iniziamo dallo schienale, dalla zona anteriore, quindi ve lo giro. Allora abbiamo uno schienale, come potete vedere, completamente a rete tensionata, abbastanza traspirante, l'ho utilizzato in questo periodo di fine estate, tra tante virgolette, nel senso che quest'anno settembre è stato caldo come agosto, quindi fine estate, tra virgolette, e vi assicuro che la traspirabilità è uno dei punti forti di questo zaino, sicuramente. Come dicevo, non è regolabile, non ha una struttura regolabile, così lo prendete, così resta, ma una cosa che non mi ha invece tanto convinto è la fascia lombare. Mi spiego meglio, Gregory dice che si può caricare fino a 14 kg, se non ricordo male, questo zaino. Secondo me è esagerato, non essendo pretensionata e non avendo nessuna struttura di collegamento tra la fascia lombare e lo schienale, secondo me quando arriviamo a 10 kg, 11 al massimo, arriviamo proprio al limite, anche perché non aiutano gli spallacci. Lo spallaccio è forse la cosa che più non mi è piaciuta di questo zaino, è veramente super sottile, ha pochissima imbottitura e a lungo andare tende un pochino anche a creare il rossore e a creare un po' di male sulle spalle, quindi lo spallaccio non mi ha convinto così tanto. Va bene risparmiare peso, ma non in questi punti. Continuando, visto che parliamo degli spallacci, innanzitutto vi dico che c'è naturalmente la chiusura pettorale, non ha la parte in più, diciamo quella elastica per quando respiriamo, e ho notato che la slitta quando la utilizziamo tende un pochino a cadere, se la mettiamo abbastanza alta, anche qua. Ha il fischietto, naturalmente, e niente, quindi lo spallaccio è fatto così e non mi ha convinto tanto. Tornando invece a parlare della cinghia lombare, allora abbiamo due tasche, sia sulla parte destra che sulla parte sinistra, belle grosse, ci sta dentro un telefono tranquillamente, anche una piccola mirrorless. Non mi ha più convinto tanto la cerniera, è abbastanza dura e si blocca abbastanza, quindi non lo so. Invece mi ha convinto la chiusura qua davanti, nel senso che quando arriviamo a mettere i nostri 10 kg, come vi dicevo, resta abbastanza chiuso. Una cosa che ho notato, e questo non è il primo zaino dove l'ho noto, la fascia lombare è veramente molto molto generosa. Io non sono particolarmente grosso, nel senso che ho una vita normale, non è troppo stretta né troppo grande, e quando lo stringo praticamente non ho più materiali della corda, in questo cordame qua, e quindi se io fossi stato, già adesso non riesco proprio a trovare il punto ideale per far scaricare il peso. E secondo me, se avessi un qualche centimetro in meno di circolferenza sulla vita, questo zaino non direbbe, quindi non riuscirei a farci scaricare il peso. Diciamo che la fascia lombare, secondo me, è un pochino sproporzionata rispetto al resto dello zaino. O meglio, forse essendo Gregory un'azienda che punta tanto sul mercato americano, non vorrei che le taglie, e quindi la grandezza, sia fatta su quel tipo di persona. Continuiamo, giriamo lo zaino, e arriviamo a parlare della parte laterale, magari da questa parte qua. Innanzitutto vi racconto che abbiamo due diversi tipi di cinghie di compressione, che si distinguono facilmente anche dal colore. Quella superiore nera serve, diciamo, per andare a chiudere lo zaino, o renderlo un pochino più piccolo quando magari lo utilizziamo da mezzo vuoto, mentre questa qua blu, che è anche abbastanza lunga, ci serve invece per andare a chiudere la parte inferiore. E vi assicuro che mi è veramente piaciuta, perché normalmente queste cinghie passano in una parte esterna, quindi quando noi andiamo a inserire la borraccia sono praticamente quasi inutilizzabili. In questo caso invece passa nella parte interna, quindi noi riusciamo ad andare a tirare lo zaino senza nessun problema, potendo mettere le roba all'esterno, in queste tasche che sono veramente enormi. Questa tasca, vabbè, innanzitutto come potete vedere ha l'apertura sia superiore che laterale, quindi possiamo benissimo andare a recuperare la nostra borraccia anche da soli. E poi sono veramente super generose, cioè noi qua dentro possiamo metterci una borraccia anche da un litro, un litro e mezzo, più per esempio la paleria di una tenda. Faccio un esempio. Un cavalletto fotografico ci sta senza tanti problemi, soprattutto poi riusciamo anche a chiuderlo in altezza. Quindi tasche fatte bene, sono innanzitutto, e poi veramente molto molto grosse. Non vi sto a descrivere l'altro lato perché i due sono simmetrici e è rispecchiato quello che vi ho raccontato dall'altra parte. Continuando vi racconto che abbiamo da questa parte la possibilità di mettere i nostri bastoncini e abbiamo una singola clip, nel senso che possiamo metterli solo da questa parte, non possiamo sdoppiare, quindi dovremo mettere entrambi i bastoncini di qua. Continuando poi, arriviamo a parlare di questa enorme tasca sulla parte anteriore, con la sua clip in alto. Allora, a me è piaciuta. È piaciuta perché comunque ha tutta una parte elastica che gli dà modo di potersi gonfiare e diminuire di grandezza in base a quello che andiamo a metterci dentro. Allo stesso modo poi, avendo anche questa parte di tessuto qua all'esterno, è abbastanza resistente. Quindi questa tasca a me è piaciuta. Nella parte inferiore, invece, troviamo la stessa clip che vi ho descritto prima, quella azzurrina, che ci dà modo, allargando, di poter mettere qua sotto materiale aggiuntivo, come essere una tenda, un sacco a pelo, un materassino, e via dicendo. Quindi possiamo portare determinato materiale anche all'esterno. Un aspetto sul quale non voglio sorvolare, perché secondo me è molto importante, è che questo zaino è fatto a sacca unica. Quindi se noi andiamo ad inserire nella parte inferiore un qualche oggetto e vogliamo recuperare quell'oggetto, dovremo praticamente svuotare tutto lo zaino, perché non ci sono aperture nella parte inferiore, laterali, non c'è niente. Quindi è fatto a sacca unica e tutti gli oggetti possono entrare solamente dalla parte in alto. E visto che parlavamo appunto di parte in alto col cappuccio, vi descrivo il cappuccio. Qui troviamo due tasche, una interna e una esterna, molto generose, davvero molto molto grosse, ci sta dentro abbastanza materiale, e poi come vi dicevo il cappuccio si toglie. Si può togliere in modo tale da diminuire nel peso se non abbiamo bisogno, e Gregory ci dà in dotazione anche un pezzo di tessuto aggiuntivo da poter andare a mettere sopra per chiudere lo zaino. Di questa tecnologia apprezzo molto il fatto che il pezzo aggiuntivo che ci viene dato per chiudere lo zaino non è attaccato allo zaino, quindi possiamo anche lasciarlo a casa e non ci intralcia, innanzitutto. E poi sicuramente potrà andare a diminuire il peso dello zaino se non ne abbiamo bisogno su uno zaino ultralight, è sempre un'ottima idea. Per quanto riguarda invece l'apertura superiore, questa qua è molto classica, di quelle che si aprono tranquillamente a due mani, tirando il cordino si va a chiudere, ed ho molto apprezzato invece la cinghia esterna che noi possiamo andare a tirare per chiudere ulteriormente lo zaino, ma ci dà modo di poter portare magari una corda, una giacca di sopra, quindi piccola feature che però personalmente apprezzo sempre. Di questo zaino voglio soffermarmi però su due singoli aspetti. Uno, i materiali. Questo zaino fatto con del nylon dove nelle parti che meno vanno a strusciarsi è fatto con nylon a 100 denari, quindi è abbastanza leggero. Mentre nelle parti in cui vanno a strusciarsi, quindi tutta la parte qui davanti che potrebbe strusciarsi contro la roccia, tutta la parte inferiore è fatto con un nylon a 210 denari, quindi sicuramente un nylon un pochino più pesante ma anche molto più durevole e questo garantisce a questo Gregory una durabilità veramente buona. Questo zaino costa il suo prezzo, che poi naturalmente vi dirò, però è un investimento che può andare bene anche per il futuro. Secondo aspetto di cui voglio parlarvi è l'ingombro. Quando provo questi zaini qua, molte volte, quando sono soprattutto carichi, come dire, lo sentiamo sulle spalle, anche nei movimenti, siamo sempre un pochino costretti. Con questo zaino invece ha una tecnologia che praticamente asseconda molto i nostri movimenti e non ci costringe così tanto, cioè questo non notiamo nel momento in cui magari andiamo a piegarci, a raccogliere qualcosa da terra e via dicendo. Sentiamo che lo zaino ha questa sospensione che è veramente particolare e vi assicuro non si sente quasi per nulla di avere uno zaino così grosso sulle nostre spalle. Infine, comparto acqua, beh, come vi raccontavo c'è la possibilità di prendere da soli le borracce da entrambe le tasche laterali. Vescica interna, da dove far uscire la proboscide, sul davanti, e anche il coprizzaino, è dotato, questo zaino è dotato di coprizzaino. Detto ciò, vi consiglio questo Gregory Focal 48. Sì, a me è piaciuto, non lo riempirei tanto, come dicevo, perché lo scarico del peso va bene, ma non eccelle, soprattutto a un prezzo molto particolare. Questo Gregory viene venduto 210 euro sul sito ufficiale, ma online l'ho trovato a 170-180, quindi è uno zaino ultralight che costa come altri zaini non ultralight, quindi secondo me il prezzo è decisamente interessante. Detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato esaurito interesso stivo anche per questo video, io vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!